Os 2023 continua, siamo allo stand di Tecno Inox SRL, un'azienda tutta italiana che realizza piani di cottura ma non solo in acciaio inox, ne parliamo con Alessio Rosa Gassaldo, il direttore commerciale dell'azienda. Caro Alessio, benvenuto. Buongiorno Fabio, benvenuto a voi, sono veramente lieto di avervi qui nel nostro stand in questo scenario internazionale che è OST 2023. Uno scenario che vede tantissimi player, Tecno Inox si distingue come sempre per presentare al pubblico dell'oreca e del food service le novità del settore di punta. E allora Alessio, che cosa presentate in questa edizione? È proprio vero, in questa edizione presentiamo più di una novità, abbiamo delle novità in particolare nella gamma dei nostri forni che poi vi darò alcuni dettagli e abbiamo un prodotto eccezionale che stiamo presentando in anteprima che si chiamerà Domino che è un piano unico con delle basi modulari. È un concetto nuovo, è un concetto che andrà a soddisfare diversi mercati a livello mondiale dove si propone un piano igienico quindi a misura di chef per la pulizia e per un ottimo lavoro ma con una modularità delle sue basi standardizzata. Quindi facilità di trasporto, facilità di utilizzo, un costo inferiore rispetto ai classici monoblocchi che oggi sono completamente saldati e quindi un prodotto sicuramente che andrà a soddisfare una fascia di mercato molto particolare. L'abbiamo vista proprio mentre tu ne parlavi e ciò che notavo è che ci sono appunto più funzioni in un unico enorme piano che credo abbia una sola misura o è disponibile in più misure? È un piano disponibile in tutte le misure, è un piano completamente personalizzabile, è un piano che viene fatto a misura dello chef quindi si può partire da un piano più piccolo ma fino a arrivare a 2,80 m, a 3 m, quindi quello che lo chef richiede. Quindi si chiama proprio Domino perché è personalizzabile in base alla richiesta. Ma non è l'unica novità, cos'altro presentate qui a OS 2023? A OS 2023 presentiamo un'evoluzione di un prodotto nostro già conosciuto che è il forno Tecnocombi, ci siamo avvicinati in questo forno con le più moderne tecnologie touch, quindi abbiamo inserito all'interno di questo forno un display completamente touch, molto simile ai telefonini che oggi utilizziamo e lo abbiamo richiesto con le funzioni che oggi gli chef richiedono che sono la connessione ad un cloud esterno, quindi la possibilità di preparare le ricette tranquillamente da casa e tutto questo va a vantaggio della brigata in cucina che può facilmente preparare i piatti con delle impostazioni già fatte dallo chef che gestisce la cucina. Insomma siete sempre più vicini al ristoratore moderno. Il ristoratore moderno è sempre più esigente caro Fabio, standardizzazione dei piatti, una qualità eccellente, poi insomma noi in Italia abbiamo delle materie prime che ci invidiano tutto il mondo e abbiamo delle persone che le sanno lavorare in maniera eccellente. Tecnocombi è a fianco di questi chef, a fianco di queste persone proprio per dare un valore aggiunto al loro lavoro. Parliamo ora, giusto per appunto citarla perché il mio occhio è saltato lì dove c'è la vostra storica salamandra. Sì, grazie per questa citazione. Tecnoinox è un'azienda riconosciuta a livello europeo per la produzione di salamandre. Tecnoinox è nata 40 anni fa con le salamandre e potete proprio vedere qui ad Ost la nostra evoluzione. Abbiamo un esemplare fatto più di 25 anni fa e un esemplare moderno di oggi. La salamandra è un prodotto che si è evoluto nel tempo. Oggi ci sono salamandre moderne come quelle di Tecnoinox che servono a rifinire i piatti. La salamandra nasce per quello, ma oggi ci si può fare anche un po' di cottura. E allora Alessio, forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale potervi contattare e richiedere maggiore informazione o comunque in cercare di avere contatti con il concessionario di turno, quello più vicino alla zona dello scrivente. Potete tranquillamente scrivere a tecnoinox.it. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione. Facilissimo. Alessio, grazie per la disponibilità. Prossimamente attraverso orecanews.it racconteremo ancora altre novità che rappresentano l'evoluzione dei sistemi e del servizio in ambito Oreca e full service proprio a disposizione dei ristoratori italiani e non solo. Grazie, grazie mille per questa intervista. Vi auguro veramente un buon lavoro ed è sempre un piacere accogliervi nel nostro stand.